Cenni generali riguardo la periodizzazione. La periodizzazione del tempo è la suddivisione del tempo in periodi storici che si presentano omogeni al loro interno per qualche caratteristica ritenuta tipica. La periodizzazione è indispensabile nello studio della storia perché dà un senso logico al fluire continuo degli eventi, cercando di evidenziare i principali snodi, i caratteri tipici di un'epoca, le continuità e i cambiamenti. Nello stesso tempo, proprio perché il flusso degli eventi si presenta senza soluzione di continuità, la periodizzazione, per quanto necessaria, è anche però artificiale e arbitraria, strettamente legata alla visione che si ha del mondo, a rilievo che si dà ad alcune caratteristiche di un'epoca rispetto ad altre a seconda del proprio punto di vista. Ad esempio, gli antichi periodizzavano la storia in base alla successione degli imperi. Sant'Agostino suddivideva la storia in sei età sulla base dei sei giorni della creazione e riterneva che con l'incarnazione di Cristo avesse avuto inizio l'ultima età. Ma anche gli storici dello stesso periodo possono individuare scansioni differenti, a seconda che si occupino principalmente di politica oppure di economia o della società, poiché i loro tempi di cambiamento sono diversi. Nella consapevolezza quindi che ogni periodizzazione è una convenzione discutibile, abbiamo però necessità di conoscere le maggiori periodizzazioni attualmente in uso nello studio della storia occidentale. Innanzitutto distinguiamo tra preistoria e storia. L'inizio della storia è tradizionalmente fatto coincidere con l'invenzione della scrittura. Tuttavia questa distinzione è problematica perché essa venne in tempi molto diversi nelle differenti aree del mondo. Pertanto in Mesopotamia la storia inizierebbe nel 3100 avanti Cristo, mentre in Italia 2400 anni dopo nel 700 avanti Cristo e in America addirittura 4600 anni dopo nel 1500 d.C. Inoltre alcuni studiosi ritengono che per quanto importante segnare la cesura di passaggio alla storia su questo solo elemento sia eccessivo. Ad ogni modo questa era una suddivisione molto in uso fino a qualche tempo fa. Per quanto riguarda poi la storia, essa viene suddivisa in storia antica, medievale, moderna e contemporanea. La fine della storia antica è generalmente posta nel 476 d.C., anno in cui venne deposto l'ultimo imperatore romano d'Occidente. Dopo questa data troviamo il Medioevo che dura un migliaio d'anni e la cui fine è per lo più posta nel 1492 con la scoperta dell'America. L'epoca moderna convenzionalmente dura fino alla rivoluzione francese. Con la fine del congresso di Vienna e l'inizio della restaurazione nel possiamo considerare iniziata la storia contemporanea. Grazie. 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 Grazie.